Solaroli nazionale, mi perdoni se l'ho chiuto in faccia, ma i bimbi cosa, qual era lo scopo della chiamata? E voleva urlarti nelle orecchie secondo te sto male E dove sono sti bamboli? Dai urlate secondo te sto male Secondo te sto male, questo è te E questa moque, questa moque, questa si chiama ostentazione positiva Solaroli Questa si chiama ostentazione patriarcale direi Perché questi sono i motivi per i quali vale la pena vivere, no? Non portano reddito e non costano, ma invece portano tanto valore Sai cosa, che oggi ho chiuso una roba, allora mi sono presentato a casa con una sporta di regali È giusto così, ed è sui più belli del mondo, a prescindere da cosa saranno Mia moglie mi ha aperto in faccia una bottiglia di champagne e allora stiamo festeggiando Sono felice di partecipare anche perché poi adesso ci sarà pure un'altra partecipazione Perché tra poco in fanpage ti saluto E quindi insomma, serata importante, 28 agosto oggi, presidente nella capitale per lavoro E quindi siamo sul pezzo, dovrei stare a puntarla ma per fortuna sono a Roma per lavoro Perché le opportunità noi stai, gli montamo sopra Io lo so, ti seguo, ma hai comprato il testino a Big & Bad? No, quello era del principe, la Big & Bad ha sempre la sua noce, ha ancora 17 anni Ma poi non potrebbe proprio guiderla Le compreremo un cinquino del 1969, l'anno del padre Il cinquino dell'epoca No, vabbè, quello non lo può guiderla, diciamo che le compreremo, non lo so, una Seat magari